Aria, aria, aria Tra le associazioni più segrete del mondo che governa il mondo e che è cambiata molto nel corso di questi ultimi anni e che arriva ad essere un'associazione che comanda e governa anche il nostro paese, perché secondo quello che ci dirà adesso lo stesso autore, chi governa veramente l'Italia non è stato né Prima Monti, né Renzi, ma chi ce lo dirà direttamente lui, Daniel Estolin, intanto grazie Daniel per essere qui con noi, con il suo club Bilberger. Grazie per l'invitazione, è piaciuto essere qui con te. Noi abbiamo fondato questa associazione cinque mesi fa, proprio nel momento in cui stavano esplodendo i fatti dell'Ucraina, perché abbiamo visto e stiamo notando una certa disinformazione voluta nei confronti di tutto ciò che riguarda la Russia nei fatti di Ucraina. Ovvero si sta formando un'opinione pubblica in Occidente che viene addestrata a credere che gli aggrediti siano gli aggressori e gli aggressori diventano aggrediti. La Russia è stata circondata negli ultimi anni a livello di basi militari alleate e la situazione dell'Ucraina è soltanto la punta dell'iceberg di un tentativo di cambiare la geopolitica internazionale, di creare un nuovo ordine mondiale in cui una Russia che di nuovo è tornata a essere fondamentale nell'equilibrio e nelle relazioni diplomatiche mondiali, ovviamente dà fastidio a chi vuole mantenere uno status quo post caduta del muro di Berlino, post caduta del comunismo. Evidentemente bisognerebbe riuscire a capire bene che cosa sta succedendo in Ucraina e in Russia perché con la Russia Italia e tutta l'Europa hanno avuto e speriamo continuino ancora a avere in futuro grandi rapporti non solo di amicizia e culturali ma anche commerciali, energetici e industriali. Quindi noi con le nostre piccole forze abbiamo fatto anche diversi convegni con ospiti anche internazionali, l'ultimo venerdì scorso all'Hotel dei Cavaliere a Milano con il professor Aleksandr Tugin dell'Università di Mosca e molto vicino al Cremlino, cerchiamo di far capire con le notizie che provengono direttamente dalla Russia come stanno le cose senza voler nascondere nulla, quindi non è che la Russia è perfetta e fa tutto bene, ma nemmeno può essere definito che il male sia solamente da una parte e il bene tutto dall'altra. Poi naturalmente come avete capito parliamo di questi temi davvero di altissima politica, anche molto difficile, un duro lavoro per riuscire anche ad affrontare queste tematiche, ma partiamo intanto dall'inizio, allora chi è, che cos'è il Club Bilderberg? Bilderberg era un elemento molto importante delle strutture del Cold War e questo in esso è un elemento molto importante perché era un veicolo per cui i interessi privati e finanziari oligarchici potrebbero impulsare le loro politiche su quello che era nominale i governi sovrani. Insomma ha detto che è un importante club che rappresenta una vera e propria oligarchia finanziaria ed anche economica che governa tutto il nostro mondo, è una cosa spaventosa Savoini. Spaventosa perché come diceva Daniel negli incontri che abbiamo avuto in questi ultimi periodi, per nascondere le cose non c'è miglior modo che anche mostrarle, perché il Bilderberg è vero che è un'organizzazione che viene, che è occulta tra virgolette, in cui i giornalisti non possono entrare. Lui invece è riuscito a capire molti documenti che ha messo nel libro il Club Bilderberg, però questa organizzazione ormai è a un livello talmente forte che alcuni dei suoi documenti si possono trovare anche liberamente, vero Daniel? What's important to understand when you're talking about Bilderberg or Trilateral Commission or Council of Foreign Relations, Punei Circle, Bohemian Grove, all of these organizations, they're not a tip of any pyramid, they're not the people who run the world. Bilderberg is an important private organization. It was very important in the 1950s and the early 1960s. It is less important today, but it's important to understand that these organizations, their work as conveyor belts. The idea is that between them you create, the idea is not the creation of one world government, new world order, it's the creation of what they call one world company limited, corporations that have a lot more power than any government on the planet. and this is the reason why in most countries, and Italy is a very good example, you have a person completely un-elected who has received as many votes as I did or Napoleon Bonaparte did, ok? And this is the individual who runs Italy on behalf of the people who run the world. Now we're going to make a translation simultaneously, but in the sense of the discourse that we are doing, and I thank you very much, it's part of what happened with the election of Monti, where we start from Monti, but also now with Renzi, we are going to say that we are governed by who is not elected by the people, this happened with Napoleon Bonaparte, Savoini. And if you actually look at these individuals, the idea is again, not the creation of one world government, that's a conspiracy theory. The idea is the creation of one world company limited, where companies, corporations, mega global firms run the world in the name of governments. I, with this declaration, I will open the phone because, through the declaration of Estonia, it says, we are talking about a corporation so important, which governs with a unique oligarchia all the world, so all the powers that are concentrated in this corporation, which decide for all the human beings. Pronto, who have we in line? Simone, Giuseppe. Simone, Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ospiti, buongiorno agli ospiti. Giuseppe, ma ti spaventa, posso farti una domanda, Giuseppe, ti spaventa sapere che noi siamo governati da un gruppo di potenti che si riunisce segretamente e decide per tutta l'umanità? Cioè, l'Estunia ha delle documentazioni, dice, le documentazioni che poi nasce in rosso e bianco, che racconta questo. Siccome? Siccome ho girato un po', e sono stato in Russia, sono stato a quel mur di Berlino, io dico la verità, dove sono andato? Mi hanno sempre trattato quei guanti. Io facevo il tir, ma la Germania dell'Est, tirano i russi, sono stata in Bielorussia, mi hanno sempre trattato bene. Sono più attenti che l'Occidente da noi, sono più attenti. Naturalmente, il potere, con i soldi, si fa tante cose. Allora, la Russia è produttore di petrolio, gas, io ti do il gas, però voglio avere dei soldi. Se non mi paghi, una volta, due, tre, poi ti chiedi i soldi. A mio consenso, è una cosa normale. E noi in Italia cosa abbiamo? Una barca di corrotti politici, ha mangiato soldi e nessuno sa dove sono andati. Questo che è da fastidio. C'è la crisi, ma la crisi. Io vorrei un censimento dei soldi che hanno rubato di danno alla popolazione. Guarda, io sono un comunista, te lo sa, francamente. Io in Russia ci andrei domani mattina. Non c'è più comunismo, ricorda Savoini. Non c'è più comunismo, ricorda. Ti saluto Giuseppe, grazie. Questa crisi a chi conviene, Estolin? Crises are great builders of unity in the world. If you look at the world as geopolitical game, what is happening today in Venezuela, what is happening, you know, the drug wars in Mexico, what is, you know, Detroit is a great example of what's, you know, deindustrialization of the world's economy is a good example. What we saw in the Soviet Union back in the 1990s, the destruction of the Soviet Union, the destruction of Yugoslavia, the war in Ukraine, you know, the coup d'etat in Thailand, the wars in Africa. The people who run these operations are the same people. We think of policies as national or foreign, but the real policy is called global policy. And that global policy is run by the same people who run the world from behind the scenes. And the idea is deindustrialization of the world, destruction of the world economy and purpose, zero growth. Why? Because progress and development is directly proportional to population density. If you have technology, if you have progress, if you have growth, if you have money, we're going to have more people on the planet Earth. More people means less natural resources. So for the Rockefellers, the Rothschilds, you know, the very wealthy people to eat, you and I have to die. Ecco, Savuini, anche qui viene fuori un concetto molto forte. Spediamo bene, esatto. Tutto quello che ruota intorno al potere, allo sviluppo, al progresso, alla fine, e ritorniamo proprio al suo club, è gestito da queste grandi potenze. Perché? Perché tutto quello che sono state anche le guerre, ha fatto degli esempi molto precisi, quello in Jugoslavia, l'attuale... L'Unione Sovietica, l'Africa, l'Ucraina... E allora qualcosa... Una politica globale, Estonia ha parlato, una politica globale che viene scelta non direttamente dai parlamenti, quindi è una cosa non democratica, no Daniel? È una cosa non democratica, noi crediamo di vivere in una democrazia in Occidente in realtà in tutto il mondo, dove c'è la democrazia, ma è una democrazia fittizia, perché dominano gli interessi di chi non è stato eletto. Daniel ricorda che queste persone che fanno parte di queste grandi consorterie, e lui ha detto prima che ormai il builder è quasi superato, è vecchio, andava bene negli anni 50, 60, 70, adesso ci sono altre corporation molto più influenti, molto più potenti, che rappresentano interessi enormi, che però la popolazione, il popolo, in nome della democrazia, non ha mai eletto da nessuna parte. Io ti faccio un esempio. Per Detroit, per l'elite, Detroit è un modello del futuro, il tuo futuro. L'elite vogliono Roma, per la vista del Detroit, Paris, per la vista del Detroit, Moscow, per la vista del Detroit. Do you think, and this is a question for the audience, do you think it's normal for a city that has been, you know, el pulmon, no in Spanish, the engine of the American economy for half a century to look today like a bombed out city you see in a movie, Hollywood movie of zombies? It's not normal. Then why do we have Detroit? Because Detroit is a perfect example of deindustrialization, of demand destruction, of zero growth. If you can destroy the world's economy on purpose, the elite are not going to suffer. You and I are going to suffer. And this is something that people have to understand. Allora, riapriamo ancora i telefoni, insomma, abbiamo questo modello di Detroit dove veramente c'è l'immagine dell'industrializzazione di tutto quello che poi, anche il pensiero americano, può essere il pensiero francese, può essere il pensiero degli altri cittadini. Detroit, come... Tra l'altro è stata proprio una città americana che è fallita proprio. Detroit, diceva Daniel, era il polmone dell'industrializzazione americana per anni, un simbolo della grande forza degli Stati Uniti d'America. C'è un'automobile famosissima per la produzione di automobili. Adesso c'è stato il progetto di deindustrializzazione di Detroit. E Detroit è l'esempio, dice Daniel Estulin, di una città che deve essere, deve diventare Mosca come Detroit, Roma come Detroit, Parigi come Detroit. Il simbolo è questo. C'è da chiedersi perché si vuole arrivare a una degradazione, a una deindustrializzazione che porta ovviamente a povertà, porta a sradicamento dell'identità, porta a conflitti sociali, porta tutto quello che si può vedere a Detroit, ma purtroppo si incomincia a vedere anche in altri paesi del mondo. Come mai questo? A chi giova? Perché anche chi detiene il potere vorrebbe avere questo caos? perché, anche, la planet Earth è una piccola planet con limiti naturali risultati. India è rinuncato di acqua, che significa che se non c'è acqua, 1.3 billion di persone dieci. E quindi, se vi extrapolate la popolazione di planet Earth, una generazione, vi parla di 7-10 billion di persone, non c'è abbastanza di mani e di acqua per tutti. Quindi, per l'elite di mangiare, dobbiamo morire. E, ancora, guardate a Spagna, è rinuncato, Portugal è rinuncato, Italia è rinuncato, Grecia è rinuncato. Pensate che sia una casualità? No. Le casualità non esistono. Un concetto importantissimo, questo Savoini, alla fine a qualcuno di molto importante, di molto grande, interessa e fa comodo che paesi, ricordate come la Spagna, l'Italia, alla fine subiscano il prezzo di una crisi così imponente. Non solo, e paesi di grande sovrappopolazione come l'India, inevitabilmente non ci sarebbe più spazio e cibo per tutti e quindi devono essere portati in condizioni in cui aumenti la mortalità. Ma queste cose che sostiene Daniel, non le sostiene Daniel, cioè Daniel ha avuto la grande abilità di trovare i documenti. Ecco la cosa, perché francamente io quando ho sentito la prima volta, conosciuto diversi anni fa, Daniel Estulin e anche io mi chiedevo ma come mai dice queste cose? Non è che sta esagerando, che sia uno di quei complottisti un po' così, che vedono cose eccezionali. No. lui non dice niente, lui interpreta ovviamente i documenti che ci sono, è riuscito ad avere una mole immensa di documentazione, io ho visto anche una documentazione che viene dall'Unione Europea, che fa paura, che lui ha messo nel suo ultimo libro, che purtroppo non è stato ancora tradotto in italiano, speriamo lo venga tradotto quanto prima, in cui si parla addirittura di modificazione genetica dell'uomo. Ma questi sono documenti non fatti da dei matti, ma all'interno dell'Unione Europea, attraverso addirittura il governo americano. Ve l'ho detto che è una puntata d'alta tensione. Pubblicati nel suo ultimo libro che si chiama In English it's called Trans-Evolution, The Coming Age of Human Deconstruction. And the thesis, the thesis of the book is that the children, we as people, are living at the cusp of the greatest evolutionary change in the history of mankind. The generation of our children, the kids who today are 15, 16 years old, they're the last 100% human generation of people on the planet Earth. The children of our children are going to be trans-human, post-human, cyborgs, men-machines, beings who are not 100% human as a result of synthetic biology. The definition of what it means to be a person, a human being, is changed and being changed on purpose. And the future, the very near future, in the next three to five years, is going to be radically different and from what we see today, the drama of a film... Can we change our future? And especially, partiendo proprio anche dai nostri bambini, 15, 16 anni, c'è una modificazione anche della genetica, dell'aspetto umano, Savoini? Ma guarda, io infatti, quando sentivo, ho avuto modo di vedere alcuni documenti che Estrulin ha messo nel suo nuovo libro, mi sembrava di assistere a Blade Runner, il film famoso in cui esistevano i replicanti. e allora io chiedo dov'è la realtà e dov'è la fantasia. Purtroppo a volte la realtà supera la fantasia. Io so che sicuramente qualche ascoltatore e normalmente i soloni della grande informazione vanno a liquidare come dire ma no, sono tutte follie, sono esagerazioni, perché effettivamente sono argomenti che colpiscono, che addirittura possono anche terrorizzare. Ma qui sono documenti nero su bianco che basterà leggere quello che scrive Estrulin, speriamo appunto che questo ultimo libro possa essere tradotto quanto prima in lingua italiana ma si può reperire in lingua inglese con documenti veramente incredibili e inoppugnabili perché mi pare che nessuno, vero Daniel, abbia smentito queste documentazioni. Nessuno. Nessuna denuncia, nessuna querella, nessuna... E anche questo nuovo libro, The Trans Evolution, mio nuovo libro, negli Stati Uniti l'ultimo mese nominated for Pulitzer Prize which is the most important journalistic prize in the United States. Pulitzer. Il candidato a premio Pulitzer. Pesso negli Stati Uniti e negli Stati Uniti. The thing is is that it's also it's easy to understand the future of humanity is in space which means that because we're running of natural resources we need natural resources to survive. You have all the natural resources you need in space. So if you look at the newspapers you have projects such as Mars One which is the European Space Agency Russian government the Dutch governments they're getting ready to go to Mars. One way trip to Mars forever establish colonies and start building life in space. And this is the future of humanity and this is something that people have to understand that the very definition of us as people is being radically changed by people who control the world from behind the scenes because you need technology high technology to control seven billion people. l'alta tecnologia controlla sette milioni di persone questo ci sta io veramente mi inchino perché queste sono inchieste giornalistiche impensabili non a caso abbiamo un candidato premio pulizzo negli Stati Uniti dove addirittura ci stiamo restringendo un universo di cospirazione ha ragione in Italia noi ce le sogniamo ce le sogniamo davvero vi faccio veramente complimenti ci vuole anche coraggio pubblicare in Italia esiste perché in Italia per esempio una istituzione che è molto molto interessata in tutti i tipi di investigazioni su space è il Vatican si spendono molti di money sull'exploration e il Vatican che è stato nel negozio di fare money per 2000 anni è la numero una firma 500 del mondo il Vatican they understand money and they understand the future mi ha tolto l'appetit devo dire allora da casa poi Savoini è più bravo anche a entrare conosce anche bene molto il pensiero di Estonia in cui si parliamo davvero del Vaticano come dell'organo con più potere in assoluto che gestisce molti interessi anche economici sì indubbiamente però quello che diceva Avola era secondo me la riconferma Daniel che chiedeva qui in Italia simili inchieste è difficile farle cioè arrivare al lavoro che sei riuscito a fare tu e a reperire documenti come quelli che hai inserito nei tuoi diversi libri perché non c'è solo il Bildergang ma ad esempio c'è anche l'istituto Tavistock che io sto leggendo questo è stato tradotto in italiano e lo consiglio perché parla proprio del controllo mentale delle persone attraverso la comunicazione attraverso la televisione quindi è una cosa molto interessante e lui ne sta parlando tra l'altro in una delle trasmissioni settimanali in lingua spagnola che fa a Russia e presso la tv Russia Today in lingua spagnola quindi tutta l'aria ispanica che ogni settimana ha una audience di 6 milioni 7 milioni di persone ad ogni puntata perché Daniel è un scrittore russo che è dovuto scappare insomma con la sua famiglia dalla Russia così leggevo è l'unione sovietica diciamo non dalla Russia ovviamente adesso con la Russia mi pare che Daniel abbia ottimi rapporti e quindi nella vecchia unione sovietica però parliamo appunto di 25 anni fa perché c'era il comunismo era una cosa diversa I was born in Lithuania at the time it was Lithuania Soviet Socialist Republic and so yes I'm Soviet you could say but obviously living in the west but I think in the world in general people understand that you know the mainstream press never tells us the truth there are always you know interests about how you know you present the information so whenever somebody presents the information you know in a particular way that makes people understand the truth people are very very interested because everybody tells us that 2 plus 2 is 17 it's not 17 it's 4 and when you explain to people that 2 plus 2 is 4 suddenly people say of course it's 4 and suddenly all these different things crisis in Venezuela crisis in the Ukraine the drug wars in Mexico Detroit you know Soviet Union Yugoslavia some suddenly all these different elements make sense and you understand how you don't have policies that only affect Ukraine or only affect Detroit or United States all of these things that happen in the world are one part of a continuum you have to understand it like that and it's I think you can understand that the message that we are launching the East Union is that now we have Savuini which translates magnificently but the message is that all of the crises that are happening between us from the Venezuela and the Ukraine have a unique community denominator and also people who plagiar the minds the state and we return to the concept of people who are not elected until we arrive to a unique community denominator this class this super you have said you before Gianluca Savuini the super of this club that now that name can we give you what we would say to Estulin I don't know what name can we give you but evidently the public opinion is influenced by media by mass media so if you transmit 10 times a day the same message the people receive for real ormai we are tutti who are present even esternally we are we are journalists and we know that the journalism has changed in 20 years in a rapid way before the newspapers had their respect not that today they have more but they were superated by the video and now are even by social network ormai addirittura da internet e tutto quello che non viene visionato è come se non esistesse quindi la forza dell'immagine è fondamentale se tu mandi sempre dei clip o continui a discutere su alcuni argomenti e trasmetti filmati che rappresentano sempre un identico mondo come diceva Estulin la gente crede che 2 più 2 faccia 17 quando si renderà conto che 2 più 2 fa 4 e che tutte le crisi in Venezuela la crisi in Ucraina la crisi in Africa in Nord Africa in Iraq sono diverse come situazioni politiche nazionali ma rappresentano un unico grande strategia globale questa la strategia globale di cui parla Estulin nei suoi libri Daniel tu sei un profondo conoscitore di quelle che sono la realtà dei vari paesi che cosa ne pensi del nostro di paese il paese Italia che in questo momento è alla prova del semestre europeo con un Renzi che è interessato su diverse tematiche quindi dal cercare di ridurre la flessibilità di avere più flessibilità di ridurre il debito pubblico di discutere fiscal compact di discutere i temi dell'immigrazione I think di ridurre di ridurre about certain policy decisions when you say Renzi very good is supporting certain social policies or the immigration policies that's not true because the idea is to inundate Italy the people are coming, the blacks who are coming from Africa, they're coming to Europe they're coming to Italy because the people who run the world want them here the idea is to create tensions because when you bring different cultures into a predominantly white culture which is Italy, which has a predominant religion, you're creating tensions and if they wanted to stop these people from coming they can stop them, but the idea is not to stop them, the idea is to have all these people enter Italy, you're creating strife, you're creating conflict you're lowering the money you earn, you're creating unemployment which is always good for business because more people who are dependent on government money are not going to protest against the government, do you understand? questo è un concetto molto, anche questo è molto importante e le persone che sono a casa sul tema dell'immigrazione, cioè alla fine conviene far arrivare qui in Italia tutte queste persone perché questo significa anche un indebolimento economico? Debolimento economico e poi conflitti sociali dove sono la strategia mondialista che è comune in tutto l'Occidente anche attraverso di creare conflitti sociali dove poi ci deve essere un intervento sempre più dall'alto e poi automaticamente dover poi controllare sempre di più una situazione che diventa fondamentale per le stesse corporazioni, per gli stessi personaggi che hanno necessità anche di creare un certo tipo di conflitto sociale come racconta Daniel Estro. Credi nell'Europa? It depends what Europe, I believe in Europe of the fatherlands, as Charles de Gaulle used to say. I don't believe in European Union, we do not have a European Union. The idea is you support nation states. That's the most important element we've had in the last 600 years since the Council of Florence in 1439 led by Nicolas de Cusa. And the idea is you create nation states and all of these countries, independent countries, work together for the betterment of everybody but as nations where the policies are decided for the benefit of each country but working together. Gianluca Savini, l'ultima battuta, l'ultima traduzione. Mi pare che sia chiaro, io sono, tra l'altro, perfettamente in linea, tra virgolette, ovviamente, con i dettami della nostra associazione culturale, ovvero il recupero delle sovranità nazionali. Daniel Eston parla che è contrario all'Unione Europea, in quanto è solamente un agglomerato di interessi economici e non difendono le identità nazionali, le sovranità nazionali e le sovranità monetarie. Quindi lui si rifà l'Europa di De Gaulle, ad esempio, non certo quella attuale. Io ringrazio Gianluca Savini per essere stato con noi. Grazie a voi, peccato perché era interessante. No, era molto interessante. Avremo altre occasioni. Io sono onorato di aver ospitato d'aria pulita Daniel Eston. veramente in bocca al lupo per il premio. Noi siamo qui a tifare per Daniel Eston. Grazie, grazie ancora per essere stato qui ad Aria Pulita. Ci vediamo domani alle ore 7. Mani 7.